positive, un nuovo modello di business per generare benessere nell'organizzazione degli individui. Ricordo che questo è un evento che abbiamo realizzato nell'ambito del progetto Welfare Cafè, che è un progetto che si è sviluppato a partire dal 2019 su iniziativa di Unione Industriale Biellese e Confindustria Canavese, con il supporto dei partner tecnici, il filo da tessere e il quinto ampliamento, ed è un progetto che è finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito della strategia regionale We Care attraverso il bando di disseminazione e diffusione del welfare aziendale tramite gli enti aggregatori. Questo appuntamento è anche l'evento che conclude il nostro progetto e oggi il tema è quello di approfondire il tema delle organizzazioni positive come appunto un modello capace di generare valore e avere beneficio sia verso l'individuo che per l'azienda. Il programma del nostro pomeriggio vedrà l'intervento introduttivo di Giancarlo Mezzano, vicepresidente delle azioni industriali e welfare di Unione Industriale Biellese, di Claudio Ferreo, vicepresidente e presidente della piccola industria di Confindustria Canavese, gli interventi, le relazioni soprattutto di Laura Conforti, Barbara Costamagna e Giovanni Trivissoni che poi presenterò ovviamente adeguatamente prima del loro intervento. Un caso aziendale che sarà proposto da Marco Cappellari di Osai Automation System e prima e subito dopo gli interventi introduttivi vi faremo anche vedere un breve filmato, un breve video che racconta l'attività che si è svolta nell'ambito del progetto Welfare Caffè. La conclusione dei lavori sarà poi affidata a Daniele Aibino, responsabile del servizio lavoro e welfare di Confindustria Canavese. Io spero di avervi dato un'indicazione di come organizziamo il nostro pomeriggio. Chiedo solo a tutti i partecipanti di ammuturire il microfono quando non intervengono, questo per una migliore fruizione del webinar e evitare che i rumori di fondo disturbino il relatore. A questo punto io senza dilungarmi oltre, lascerei la parola a Giancarlo Mezzano, Vice Presidente dell'Azione Industriale e Welfare di Unione Industriale Biellese per il suo intervento introduttivo. Grazie. Grazie Roberto. Buonasera a tutti innanzitutto. Prima di iniziare a leggere la relazione vorrei ringraziare il dottor Ruffato e la signora Battistini per il supporto nella relazione e per l'impegno messo quest'anno nel progetto, senza dimenticare Niccolò Zumaglini che ha vissuto prima di me questa esperienza. Questo progetto ha permesso di raggiungere sicuramente, dopo vedremo, dei significativi risultati. Parto con la relazione. È un piacere potervi salutare e dare via ai lavori di questa webinar. Le organizzazioni positive, un modello di business per generare il benessere dell'organizzazione degli individui. Che è anche l'evento con cui concludiamo l'esperienza del Welfare Café. Un progetto che ci ha visto impegnati per un anno in numerose attività e proposte a cui molti di voi hanno aderito in diverse occasioni. Stiamo vivendo un momento storico unico. La crisi sanitaria sta avendo ripercussioni in molti ambiti della nostra vita economica e sociale, agendo come uno spartiacque che accelera l'affermazione di nuove culture e nuovi comportamenti nelle imprese. Tra questi trend si impone in modo evidente il rafforzamento del Welfare aziendale. Con l'emergenza pandemica, infatti, da un lato le aziende che avevano già maturato capacità di Welfare hanno saputo proporsi come punto di riferimento per le comunità con cui interagiscono, a partire dai propri dipendenti e i loro familiari. Dall'altro, l'esperienza della crisi ha generato in molte altre imprese una crescente consapevolezza di quanto sia vitale impegnarsi per garantire l'equilibrio sociale e il benessere delle proprie persone attraverso politiche e iniziativa DOC. Oggi, dopo che l'emergenza sanitaria ha provocato la più grave recensione della nostra epoca, ha minacciato la sopravvivenza stessa delle imprese, stiamo entrando in una fase più matura nella quale gli obiettivi di Welfare aziendale e di sostenibilità si integrano e assumono un rilevo strategico dalla gestione generale del business. In questo contesto, le imprese sono chiamate ad agire sempre più come soggetti sociali, oltre che di mercato. Assumono, infatti, un ruolo di riferimento per la comunità interna ed esterna. Contribuiscono alla sicurezza e alla coesione sociale. Generano le condizioni per reagire più rapidamente alla crisi e crescere in modo sostenibile. Seppur accelerato dalla crisi pandemica, l'affermazione della sezione contemporanea di Welfare aziendale appartiene a un fenomeno in corso di alcuni anni. Il Welfare aziendale è inteso oggi come strumento in grado di rafforzare la sostenibilità dell'impresa aumentando il benessere e la sicurezza sociale dei lavoratori e delle loro famiglie. Le origini di questa accezione risalgono cinque anni fa, quando è stata introdotta una normativa che ha potenziato gli incentivi fiscali a Welfare aziendale, estendendone una gamma molto vasta di iniziative e servizi attuabili dalle imprese a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie. Prima di allora l'espressione Welfare aziendale era pressoché sconosciuta o poco utilizzata. L'Welfare integrativo nel mondo del lavoro si riferiva quasi esclusamente alle grandi soluzioni collettive di previdenza e sanità complementari, istituti ai contratti nazionali, oppure benefici aggiuntivi previsti dalle singole aziende per i propri dipendenti, presenti quasi esclusamente nelle imprese di grande dimensione e a vantaggio dei singoli lavoratori altrimenti qualificati come componente del sistema premiante. È noto, come in questi anni, anche per l'effetto della legislazione di favore, le imprese abbiano incrementato tanto l'ampiezza quanto l'intensità delle iniziative di Welfare adottate. Nelle grandi imprese la diffusione del Welfare aziendale è ormai consolidata. Si tratta ora di sottenere la diffusione del Welfare aziendale nelle piccole e medie imprese. Oggi il Welfare aziendale è quindi un fenomeno in crescita, tanto rispetto ai soggetti che coinvolge quanto rispetto al numero, alle tipologie di prestazioni a cui si applicano. Si rivolge infatti a intere popolazioni aziendali, alle loro famiglie, per rispondere a un range di vastissimi bisogni. Nelle grandi imprese la diffusione del Welfare aziendale è ormai ampia e consolidata, nelle piccole e medie imprese invece è ancora presente in maniera marginale. Si rende per questo necessario consolidare le informazioni normative e tecniche che le piccole e medie imprese possiedono sul Welfare aziendale, così come le competenze professionali per la gestione di queste informazioni e la loro traduzione in iniziative concrete. Anche per la maggior parte dei lavoratori, il Welfare aziendale ha un'esperienza recente. Non dobbiamo stupirci dunque se tra i lavoratori non si è ancora consolidato il riconoscimento della sua utilità. Come non dobbiamo stupirci della difficoltà a percepirne il valore sotto un profilo meramente economico. Altrettanto importante risulta dunque lavorare sulla percezione del valore del Welfare aziendale e lavoratorio, in quanto da questa percezione dipende la capacità dell'azienda di valorizzare le proprie iniziative di Welfare. Il progetto Welfare Caffè, cormosso e ideato dall'Unione Industriale Bellese e Confindustria Canavese, con il supporto dei patti dei tecnici, filo da tessere e quinto ampliamento, si è posto l'obiettivo di diffondere la cultura del Welfare aziendale, soprattutto nelle piccole e medie imprese, attraverso una sensibilizzazione degli imprenditori e dei lavoratori. Numerose sono state le iniziative promosse nell'ambito del progetto sviluppato da Welfare team dedicato. Tra queste iniziative riteniamo rientrano sportelli individuali per le imprese, volte a fornire le informazioni normative e tecniche per l'introduzione del Welfare aziendale, oltre a workshop e webinar per approfondire tematiche specifiche. Sono stati inoltre dedicati alcuni webinar informativi ai lavoratori delle imprese sui servizi socioassistenziali presenti sui territori per la gestione delle problematiche di concilazione e dei carichi familiari, su come affrontare eventi traumatici, quali l'emergenza sanitaria che ci ha colpito. All'albore della comparsa del Welfare aziendale, la domanda che il mondo industriale si poneva era, il Welfare aziendale fa davvero crescere l'impresa? Fino a qualche tempo fa la risposta a questa domanda pariva estremamente incerta, data l'assenza di chiare evidenze circa l'effettivo contributo delle iniziative di Welfare al miglioramento qualitativo e quantitativo delle performance aziendali. Oggigiorno, a vale dell'esperienza acquisita e di numerosi studi sul Welfare aziendale, possiamo affermare che indubbiamente esiste una relazione positiva tra l'utilizzo degli strumenti di Welfare aziendale e la crescita dell'impresa che li ha attivati. Fare Welfare è strategico. Per garantire un aumento della produttività dei lavoratori rappresenta un investimento fondamentale per ottenere migliori risultati sia in termini quantitativi che qualitativi e ho aggiunto e anche una possibile attrazione in caso di ricerca di personale qualificato e nonno. Mi avvio alla conclusione del mio intervento sottolineando una caratteristica unica del Welfare aziendale, su cui oggi in questo webinar proponiamo una riflessione. Il Welfare obbliga le nostre imprese a porsi domande sulle risorse umane, ad ascoltare i bisogni dei dipendenti e chiedersi se esistono dei modi per aumentare la loro motivazione, il loro engagement, il loro benessere, incidendo positivamente anche sul loro rendimento in azienda. Vi ringrazio e lascio dunque la parola ai prossimi relatori. Buonasera. Grazie al Vice Presidente Giancarlo Mezzano. A questo punto chiederei a Claudio Ferreo, Vice Presidente e Presidente della piccola industria di Confindustria Canavese, di effettuare il suo intervento introduttivo. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie al collega Giancarlo Ormezzano per aver introdotto questa giornata e con piacere che porto oggi i saluti a nome di Confindustria Canavese tutta. Con questo webinar si conclude il progetto Welfare Caffè promosso dall'Unione Industriale e Billese della Confindustria Canavese. Ci auguriamo che la giornata di oggi non sia il termine di un progetto di successo, ma rappresenti lo stimolo per l'inizio di un percorso fruttuoso sul tema del Welfare aziendale. Porgo un ringraziamento alle nostre relatrici e docenti, Laura Conforti e Barbara Costamania. Saluto Marco Cappellari di Osai. S.P.A., un'azienda che siamo orgogliosi di avere Canavese e che ben volentieri abbiamo oggi invitato per raccontarci la loro esperienza su queste tematiche. Porgo ringrazio ancora tutti voi naturalmente per questa partecipazione, viva partecipazione, che vedo abbondante. Permettetemi anche di ringraziare per il grande lavoro di quest'anno in mezzo di tutto il Welfare Team di Welfare Caffè, composto da numerosi dirigenti, funzionari e anche imprenditori dell'Unione Industriale Bielese e Confindustria Canavese, che hanno operato con il supporto dell'Associazione Quinto Amplimento e Filo da Tessere e con la collaborazione dei consulenti che hanno redatto il progetto iniziale e collaborato nella gestione. Mi spiace non citarvi singolarmente, ma sono veramente molti, anche vista l'articolazione del progetto, ma ciascuno di loro ha portato con passione la propria competenza professionale. Nel programma del seminario odierno si indica l'obiettivo di approfondire il tema delle organizzazioni positive, intese come modello culturale capace di generare valore e beneficio sia per l'individuo che per l'azienda. Permettetemi di sottolineare proprio l'aspetto del modello culturale che diventa valore. Su questo tema, così come sulle altre grandi sfide che ci coinvolgono, Industria 4.0, digitalizzazione, sviluppo internazionale, consapevolezza finanziaria e il capitale umano. Dobbiamo certo informare e supportare le imprese, ma soprattutto è necessario impegnarci nel creare strumenti formativi per aiutarli a conoscere anche culturalmente, rendendole in grado di capire e di affrontare queste tematiche quotidianamente. Azioni particolarmente necessarie queste, soprattutto in modo particolare per le PMI. Dalle indagini sul lavoro fatto nel 2019 dal centro studio di Confindustria emergeva che il 60,2% delle imprese associate aveva messo a disposizione dei propri dipendenti, dirigenti, almeno un servizio di welfare. Nel 2018 le aziende erano in 57,6, mentre l'anno ancora prima, nel 2017, il CSC le registrava in 51,4. Numere quindi in netta crescita che denotano quanto a piccoli e bassi le aziende diventino sempre più consapevoli dell'importanza dell'applicazione di questo tipo di misure verso i propri collaboratori. Certo però molti di questi servizi di welfare aziendali sono quelli dovuti in base ai numerosi contratti di lavoro che hanno previsto proprio misure sul welfare. C'è quindi ancora da lavorare sull'opportunità di iniziative volontarie e aggiuntive rispetto ai contratti. E comunque ci sono tutte le altre imprese che non hanno ancora nessuna di questa misura. L'indagine sul welfare aziendale per l'azienda dell'area del Canavese, che è stata realizzata durante lo svolgimento del progetto tra fine 2019 e inizio 2020, ci ha confermato che le aziende del nostro territorio, pur avendo una conoscenza di massima sul tema, non avevano attuato delle misure specifiche e autonome rispetto a quelle dei contratti nazionali. Sommando le poche misure volontarie e le misure da contratto, in prevalenza metameccanico sul nostro territorio, però si arriva ad un totale del 61,3% di aziende con iniziative di welfare, quindi un poco superiore alla media nazionale. Dalle risposte delle indagini, inoltre, si ricava che seppur una buona parte di imprese fosse già a conoscenza del welfare aziendale, alcune non erano per nulla informate, mentre altre, pur non conoscendole, dimostravano interesse e avevano espresso il desiderio di ricevere informazioni a riguardo. Infine, bell'83,9% aveva risposto in modo affermativo rispetto alla possibilità di attuare misure di welfare nei prossimi anni. Crisi Covid permettendo, naturalmente. Venendo alla gestione del progetto Welfare Cafè, possiamo dire di essere estremamente soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati ottenuti. Il numero di imprese che ha dimostrato interesse e che ha chiesto il nostro supporto per potenziare attività già avviate o per svilupparne di nuove indica, chiaramente, che l'iniziativa è riuscita nel suo intento, cioè ha contribuito ad aumentare la conoscenza del welfare aziendale e ne ha ampliato la diffusione nelle aziende e nei trami territori. Abbiamo realizzato incontri e workshop sia nel bianese che nel canadese, a volte unendo anche le due aree con molto piacere. Abbiamo attivato lo sportello welfare per le aziende presso le due confindustri, abbiamo realizzato guide sul welfare aziendale, una più completa per le imprese e una più immediata per i lavoratori. Siamo, cioè, certi che questo progetto si sia dimostrato molto utile per sensibilizzare le aziende verso questa importante tematica. Inoltre, attraverso questa iniziativa, abbiamo messo in cantiere delle progettualità nuove, anche a livello territoriale, con l'obiettivo di favorire la creazione di un territorio dinamico e di conseguenza attrattivo per aziende e professionalità. Welfare Caffè è riuscito poi brillantemente a superare le difficoltà di gestione dovute all'opera dell'emergenza Covid, purtroppo non ancora conclusa. Gli incontri seminari in presenza sono diventati webinar, ma anche i temi sono stati adattati, così si è parlato di smart working, della gestione dei ragazzi durante l'emergenza, dell'adattamento di servizi educativi assistenziali, pubblici e privati. Dal progetto di disseminazione è nato Welfare Lab, un'iniziativa diretta di alcune imprese sul welfare aziendale, anch'essa finanziata dalla regione Piemonte. Otto aziende, di cui sei biellesi e due cremesane, sperimentano nuovi servizi che ampliano gli strumenti già presenti nel piano di welfare delle aziende aderenti, arricchendo così le opportunità disponibili per il loro personale. Ma proprio basandoci sull'esperienza del progetto Welfare Caffè, rendendoci conto della difficoltà economica ed organizzativa delle PMI e delle microimprese, in particolare nell'attuare e gestire misure di welfare aziendale. Come Comitato Piccoli Industri e Confindustria Canavese abbiamo avviato una riflessione che ha coinvolto anche Fondazioni di Comunità del Canavese, le parti sindacali e la rappresentanza locale dei commercialisti sulla possibilità di attivare un'iniziativa di welfare coordinata a livello territoriale, rivolta principalmente ai lavoratori delle nostre aziende e alimentata non solo con risorse delle imprese stesse. Questo anche per le difficoltà nell'utilizzo delle piattaforme e anche in relazione alla mancanza spesso di servizi convenzioni anche in logo. Sono certo che l'evento di oggi ci potrà lasciare molte idee e suggestioni. Per questo ancora un grazie ai relatori e un grazie a voi tutti di partecipare. Grazie dottor Ferreo e adesso vi chiedo virtualmente di mettervi comodi perché se riesco vi porto al cinema e chiederei alle colleghe di far partire il video del progetto Welfare Caffè. Grazie. Il welfare aziendale oggi costituisce una grande opportunità sia per i lavoratori sia per le aziende. Oltre ad essere un importante strumento per la gestione del risorso umano in maniera attenta e sensibile, il welfare è in grado di generare benessere e crescita economica. Incentrato sul miglioramento del benessere dei lavoratori, esso rappresenta un elemento irrinunciabile per tenere in buona forma il clima aziendale e permettere alle aziende di migliorare e aumentare la propria produttività. Unione industriale biellese e Confindustria canadese imparveci il confilo da tessere e il imparviamento, grazie al finanziamento della regione Piemonte, hanno avviato a novembre 2019 il Welfare Caffè. Un progetto attraverso il quale fornire ad aziende e lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui vari benefici derivanti dall'introduzione del welfare in aziendale. Un progetto condiviso tra le due associazioni con il supporto di una rete istituzionale composta da cinque partner. Per un fine ultimo comune, aumentare il valore delle nostre associazioni. Ma in cosa consiste esattamente il Welfare Caffè? Innanzitutto il Welfare Caffè è un team formato da 12 persone che hanno lavorato senza sosta in un articolato lavoro di squadra per diffondere la cultura del welfare aziendale nei territori biellese e canadese. Punto di partenza del progetto è stata un'indagine avviata su entrambi i territori per comprendere quali potevano essere le esigenze delle imprese su tale tema. Il Welfare Team ha poi attivato uno sportello informativo in ciascuna territoriale, attraverso il quale ha fornito consigli e ha dato supporto alle aziende per definire l'introduzione o valutare l'estensione di piani di welfare su misura per ciascuna impresa. Oltre agli sportelli per le imprese, il Welfare Team ha organizzato presso le aziende interessate sportelli informativi rivolti ai lavoratori e ha messo a disposizione sul proprio sito internet uno strumento per calcolare i vantaggi fiscali di attivare un piano di welfare. Sono state realizzate due pratiche guide informative, una rivolta ai collaboratori e una alle aziende. Inoltre è stato calendarizzato un ricco programma di incontri e workshop dedicati all'approfondimento di temi più vari, tutti però in qualche modo strettamente collegati al welfare. Agli inizi del 2020, quando il progetto era appena stato avviato, il mondo è stato sforzato in maniera violenta dall'emergenza coronavirus. La pandemia ha innescato un portice di cambiamenti impressionanti in tutti gli ambiti. Il Welfare Team però non si è perso d'animo. Convento che in situazioni tragiche come quella che si stava vivendo fosse necessario uno sforzo ancora maggiore per garantire servizi e prestazioni dal forte impatto sociale, si è completamente reinventato. Gli eventi in calendario sono stati riprogettati e proposti alle imprese in forma virtuale. Sono stati messi in cantiere dieci webinar in streaming che saranno sempre a disposizione di imprese ai lavoratori. Inoltre sono stati realizzati quattro video che proponevano semplici pratiche per stare bene al lavoro. Tutte le attività del Welfare Cafè sono state comunicate e promosse attraverso la diffusione di otto comunità di stampa che hanno generato la pubblicazione di 50 articoli. Sono stati poi creati un profilo Facebook e il sito internet www.welfare.cafè. Infine, gli esperti di Welfare Cafè durante l'anno hanno proposto appositi momenti di confronto per mettere a fuoco possibili sistemi di condivisione di servizi. Si è creato un vero e proprio ambiente di cogenerazione dal quale è scaturito un nuovo progetto, il Welfare Lab. Otto aziende e una rete istituzionale composta dai protagonisti del terzo settore hanno deciso di lavorare insieme per costruire un sistema di welfare di comunità del valore di circa 80 mila euro. In conclusione, il progetto Welfare Cafè si è posto l'obiettivo di seminare idee nel canavese e nel biellese con la speranza di raccogliere buone pratiche in tema di welfare aziendale. Un lavoro importante che ha già dato i suoi primi punti in entrambi territori. Un piccolo contributo da parte di Confindustria canavese e Unione Industriale biellese per qualcosa di grande. Ecco, grazie del video, siamo riusciti a farvi vedere, questo mi fa molto piacere. Adesso proseguiamo i nostri lavori, entriamo nel merito proprio di quello che è il tema del nostro webinar e lo facciamo grazie alle nostre relatrici. Permettetemi prima di tutto di ringraziare l'associazione Quinto Ampliamento che ci ha contribuito, ci ha permesso di realizzare questa giornata formativa e informativa. Abbiamo con noi come relatrici Laura Conforti, coach certificata Sfera, trainer in scienze della positività, specializzati in high performance coaching presso l'Advanced Mind Management di Miami e Barbara Costamagna, psicologa, psicoterapeuta e terapeuta, formatrice Aera Salute e Benessere, specializzati in benessere aziendale e soft skills trainer, certificata chief happiness officer. Abbiamo sempre con noi Giovanni Trivisonni, amministratore delegato di Perceptron che grazie all'esperienza che ha maturato ci consentirà, ci aiuterà a capire come si può agire, quali sono gli effetti di questo nuovo concept di business. Lascerei quindi innanzitutto la parola e spero di ricordarmi l'ordine di intervento a Laura Conforti che tratterà come tema epigenetica delle organizzazioni e cultural change, strumenti per capire la transizione culturale e nuove competenze. A lei, Laura. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto anche io ci tengo a fare qualche ringraziamento a nome di tutto il team di Eclettica. Ringraziamo l'Unione Industriale del Biellese per averci dato questa opportunità e ci fa molto piacere essere qui con voi stasera. Ringraziamo Vittoria Barton che ci ha consentito di presenziare oggi. Ringraziamo anche Vanna e Roberto che ci hanno fornito un'assistenza tecnica perché è sempre fondamentale in questi tempi in cui bisogna cimentarsi sempre con nuove piattaforme. Allora, una veloce presentazione di Eclettica che è la società a cui noi apparteniamo. Eclettica è un istituto di ricerca e formazione che da anni si occupa di prevenzione della salute a 360 gradi e di promozione del benessere. Negli ultimi anni ha ampliato la sua attività e ha iniziato a dedicarsi a tutte le tematiche aziendali. Noi ci siamo formati e abbiamo preso questa certificazione che ha un nome strano, CHO, Chief Happiness Officer, che è praticamente il ruolo che hanno ormai nelle aziende queste figure che si occupano proprio di promuovere il benessere aziendale a 360 gradi. Dunque, io volevo anche ringraziare appunto il dottor Ormezzano e il dottor Ferrero perché in qualche modo hanno già introdotto un pochino il discorso che noi andremo a fare insieme adesso. Riprendo quindi alcuni punti del loro discorso perché appunto hanno veramente centrato già un pochino i temi che noi ci troveremo ad affrontare insieme. E parto da un dato che vorrei portarvi e che un'indagine pubblicata nel 2015 sul Journal of European Economic Association ha messo in luce come le aziende siano considerate i sistemi in cui la popolazione diciamo nutre più fiducia quando pensa al futuro. Sono davvero considerate ormai le aziende gli attori fondamentali per quello che sono i cambiamenti socio-economici e anche politici molto più paradossalmente di diciamo di coloro che sono titolati a questi ambiti normalmente quindi molto più della politica e delle istituzioni. E qui rifaccio il discorso che appunto faceva il dottor Ormezzano quello che è l'impatto ormai sociale e anche la responsabilità sociale che hanno le aziende. Tanto più, e anche questo è un punto che lui ha già evidenziato, in un mondo che è sempre più incerto e difficile. Sapete che questi tempi vengono definiti tempi VUCA. Non so se avete mai sentito questo acronimo. È un acronimo inglese che tradotto significa tempi volatili, incerti, complessi e ambigui. Sono proprio i tempi dell'oggi questi e mai come in questi mesi purtroppo di pandemia ne abbiamo conferma. E quando appunto si verificano delle situazioni in cui questi tempi sono così volatili, incerti, complessi e ambigui sono i momenti in cui alla società è richiesto un cambiamento e in cui alla società è richiesta un'evoluzione. E anche qui appunto riprendo le parole invece del dottor Ferrero quando diceva che il cambiamento deve essere prima di tutto un cambiamento culturale. Quindi quando noi pensiamo al welfare in quest'ottica possiamo dire che quello che noi andiamo a proporre quando parliamo del paradigma delle organizzazioni positive andiamo veramente a proporre un cambiamento anche nel modo di guardare al welfare e quindi proviamo a guardare al welfare non più secondo quelle che sono le logiche tradizionali cioè come benefit, come concessioni che vengono fatte ai dipendenti ma proviamo a intendere quello che viene definito un pochino il welfare 3.0 che è qualche cosa di molto più sistemico. Mi verrebbe da dire che è un sistema che viene innestato nell'azienda che è un sistema ad ampio spettro e a lungo raggio che è in grado di generare come dicevamo benessere sia a livello dell'individuo e sia poi a cascata a livello dell'organizzazione. Passiamo adesso appunto a vedere un pochino nel dettaglio che cosa vogliamo dire quando parliamo di questo cambiamento culturale e quindi iniziamo ad addentrarci un pochino più nel vivo del nostro tema. Adesso io condivido lo schermo così potete vedere delle slide che appunto noi abbiamo già inviato anche a Unione Industriale quindi vi verranno poi inviate e le potrete quindi rivedere. Allora, un attimino. Ecco qua dovrete vedere il mio schermo, ditemi se è tutto a posto. Adesso io attivo la modalità presentazione. Le vedete bene? No, in questo momento no. Io non le vedo ancora. Non ancora. Eppure mi dice che le condivise quindi... Non le vedete? No. Allora riprovo, abbiate pazienza. Abbiamo provato e stamattina abbiamo ben provato e funzionava bene quindi funzionare anche adesso. Ma questi che dicevamo stamattina sono gli inconvenienti della diretta. C'è adesso? Non ancora. Accidenti. Ma com'è possibile? Allora se prova a schiacciare quindi... Eccola. Eccola. La vediamo. Era solo una questione di tempo allora. La interrompo solo un secondo per aiutare i partecipanti a visualizzare al meglio la presentazione. Se avete la necessità di ingrandire le immagini, potete in basso a sinistra cliccare sulle due frecce che si allargano in modo da visualizzare a schermo intero, scusate in basso a destra, in modo da visualizzare a schermo intero. Potete inoltre con il mouse posizionarvi sopra l'immagine della presentazione, vedrete che avete i simboli più e meno per zoomare, quindi ingrandire o ridurre le immagini. Vai pure Laura, scusa. Ok. Niente niente, anzi grazie. Allora appunto, dicevamo che le organizzazioni positive si pongono come svolta culturale in tempi di grande complessità e di grande incertezza. Il grosso vantaggio di chi tenta di applicare questa svolta culturale è che in effetti si è dimostrato, e questo ormai in maniera molto scientifica e molto consolidata, che chi è in grado di fare questo salto evolutivo, diciamo così, acquisisce una maggiore resilienza, diciamo pure una maggiore antifragilità a tutto questo grande vortice di complessità e di incertezza. E cerchiamo di capire perché. Allora, fino adesso noi siamo stati influenzati da una cultura aziendale, ma più in generale di una cultura sociale, che appunto prende le mosse da quelle che sono appunto le istanze del materialismo e del determinismo, che addirittura risalgono a Newton e a Darwin, che hanno generato da un punto di vista proprio di cultura, ma ripeto, questo lo possiamo dire relativamente all'azienda, ma più in generale anche proprio ad altri ambiti della società, hanno determinato un'ottica di grande produttività, cioè tutto era veramente orientato a cercare di essere il più possibile delle macchine produttive, e questo se volete risale anche poi al modello della rivoluzione industriale. Quindi l'ottica a cui noi siamo stati abituati fino adesso è quella di aziende come macchine produttive. Questo però, diciamo, è basato poi su tutta una serie di concettualizzazioni e di comportamenti che noi abbiamo trovato poi nei nostri sistemi, siamo abituati a vivere nei nostri sistemi organizzativi, e qua avevano messi solo alcuni, no? Il fatto che la pressione è quello che funge da stimolo, il fatto che per poter generare efficienza è necessario avere controllo e organizzazione gerarchica, il fatto che le grandi decisioni spettino ai manager, ai leader, e il fatto che le informazioni strategiche siano a pannaggio di poche persone. Tutto questo però ha degli effetti che noi abbiamo dimostrato. Questi dati sono stati presi dal rapporto Gallup, che è una delle agenzie che in maniera più approfondita studiano gli effetti delle culture e dei sistemi aziendali su, appunto, proprio quelli che sono i KPI che noi siamo abituati ad analizzare, appunto, normalmente. E gli effetti sono che l'85% dei dipendenti di tutto il mondo si definisce stressato e demotivato. E che, appunto, tutta questa demotivazione è quello che genera poi la sensazione di stress che noi sentiamo quando ci troviamo negli ambienti lavorativi, nella maggior parte dei casi, chiaramente. E tutto questo poi ha degli effetti proprio anche da un punto di vista concreto. Pensate, appunto, al grande numero di incidenti sul lavoro, ma pensate, appunto, anche agli effetti che ha sulla produttività. Vedete, io ho riportato questi dati. C'è un calo del 18% di produttività, c'è un calo del 16% in termini di redditività che poi a cascata chiaramente influenzano il fatturato e aumentano in maniera importante i tassi di assenteismo. E quindi possiamo dire che ormai abbiamo le dimostrazioni concrete che il modello, chiamiamolo tradizionale, che non vuol dire negativo, poi questo lo vedremo più avanti, ma il modello a cui noi siamo stati abituati fino adesso, è un modello che per il mondo che noi ci troviamo a vivere oggi non funziona più. Cosa è successo poi in realtà nei tempi moderni? Allora, circa un secolo fa c'è stata una rivoluzione che ha interessato la fisica, che qualcuno di voi che magari è più esperto è quella che riguarda proprio tutto il mondo della fisica quantistica, che ha portato una nuova ottica nel mondo scientifico e che ci ha fatto traghettare da quella che era l'idea di determinismo, di materialismo e di sicurezza della scienza ad un'ottica di indeterminismo. Quest'ottica, se pensate, è veramente quella che è più coerente con i tempi che noi viviamo e quindi in un certo modo anche noi, sia come individui, sia come sistemi, dobbiamo adattarci a questa nuova concezione, che è nuova tra l'altro fino a un certo punto, perché come dicevo è qualcosa che è andato già sviluppandosi a partire dal secolo scorso. Quindi noi dobbiamo provare a traghettare anche la nostra ottica da aziende come macchine produttive ad aziende intese come dei veri e propri sistemi viventi. Questo in realtà, se ci pensate, è qualcosa che tocca veramente tutti gli ambiti della società. Se pensate anche al modo che la medicina e le neuroscienze hanno provato a innestare, noi siamo stati abituati per secoli a pensare che noi fossimo un corpo che eseguiva degli ordini che arrivavano da un cervello, come se il cervello fosse il capo che comandava tutto il sistema. E se pensate, le nostre aziende erano esattamente impostate in questo modo, prendevano, e proprio vedete come è veramente un modello culturale che riguarda tutti gli ambiti. Ma se pensate alle evoluzioni che ci sono state anche nel campo medico, e dicevo appunto neuroscientifico, adesso si inizia ormai da un po' a parlare come a un corpo che in realtà è un qualcosa di olistico. È un corpo che è veramente un aggregato armonico e armonioso di organi, di funzioni e di sistemi che comunicano tra loro e che ovviamente, siccome comunicano tra loro, si influenzano a vicenda. E quindi questo vi dà proprio l'idea di come noi dobbiamo veramente cambiare l'ottica di guardare a noi stessi, a chi ci circonda e ai nostri sistemi. Se noi ritorniamo a parlare di aziende come esseri viventi, vediamo che nelle aziende come esseri viventi abbiamo visto appunto quali erano i paradigmi delle aziende intese come massime produttive, invece in queste che sono considerate essere viventi l'efficienza è tendenzialmente sempre legata a una coerenza e la coerenza deriva dalla condivisione di obiettivi e soprattutto, e questo ci tengo a sottolinearlo, di valori. Il ragionamento sui obiettivi e sui valori è qualcosa di fondamentale nell'organizzazione positiva. Ma un'altra caratteristica è che le decisioni sono condivise e quando qualche cosa è condiviso genera automaticamente senso di appartenenza e potete chiaramente capire quando c'è un discorso di senso di appartenenza e quando noi ci sentiamo di appartenere a un sistema, ci sentiamo intrinsecamente motivati, e sottolineo intrinsecamente, perché qui ci sarebbe da aprire un grande discorso su quello che è il tipo di attivazione e qui faccio una parentesi sul discorso del welfare. Il welfare, inteso come vecchio, e lo metto tra virgolette, è un welfare che lavora sulla motivazione estrinseca, cioè lavora sul nostro bisogno di avere un premio, una ricompensa. Ma questo è stato provato a una durata a breve termine, nel senso che raggiunge un piccolo momento in cui noi lo riceviamo e poi in un certo senso ci crea assuefazione e poi appunto ci fa venire voglia di avere di nuovo un altro premio e un altro stimolo. La motivazione intrinseca è invece qualcosa che dura veramente a lungo termine ed è qualcosa che ci appartiene dal di dentro e quindi è decisamente più efficace. Ed è per questo che questo sistema delle organizzazioni positive può essere veramente visto come un welfare 3.0. E questo ha degli effetti veramente strabilianti. Questi sono sempre dati che provengono dal rapporto GALB, ma anche da altre fonti autorevoli. Guardate, ad esempio, c'è un aumento incredibile nella capacità di innovazione delle aziende. Parlando del discorso delle motivazioni, vedete come c'è un aumento addirittura del 44% dell'attaccamento all'azienda. E questo chiaramente poi agisce in maniera positiva su quelli che sono, ripeto, i KPI tradizionali, quindi la produttività, l'auspimento dell'endite, la diminuzione dell'assenteismo, che invece prima avevamo visto era decisamente importante. E quindi chiaramente poi anche a livello individuale gli individui stanno meglio e quindi cosa succede? Vivono meno stress e quindi il burnout diminuisce e hanno meno voglia di abbandonare le aziende, perché se stanno bene hanno voglia di rimanere lì, quindi automaticamente, e questo mi sembra veramente ovvio, diminuisce il turnover. Ma adesso cerchiamo di capire un pochino di più che cosa si intende per organizzazioni positive. In pratica, come dicevamo, è veramente un discorso di tipo culturale, quindi si tratta di fare un lavoro culturale su tutto il sistema organizzativo. E quindi si tratta di innestare nuove strategie, nuove pratiche e nuove processi, che sono in grado di generare, appunto, un maggiore coinvolgimento, un'innovazione maggiore, e che veramente consente di gestire quel mondo volatile, incerto, complesso e ambiguo, che è quello che poi ci fa andare in crisi. E quindi, per ritornare al discorso di prima, è che neanche un punto, appunto, che appunto il dottor Ferrero diceva prima, sono aziende che cercano di conciliare il benessere individuale con i profitti e con la crescita del business. Questo è davvero il welfare del futuro. Però, volevo ritornare un attimino su un punto che, diciamo prima, noi parliamo di organizzazioni positive, ma questo non significa che quelle che noi abbiamo vissuto fino a adesso siano organizzazioni negative. Non è un discorso di giudizio, ma è veramente un discorso di capire la necessità di una trasformazione. E la trasformazione spesso significa tenere tutto quello che di buono c'era nel vecchio modello, andando a innestare tutto quello che di nuovo, il cambiamento e le nuove istanze sociali, socio-economiche e scientifiche, ci suggeriscono. Questo l'hanno già fatto tantissime realtà che hanno avuto veramente, hanno fatto veramente il botto. Io qua ne ho messe alcune di straniere, vedete Netflix, Virgin, ma vedete anche alcune italiane. Noi molte di queste italiane le abbiamo conosciute dal vivo, alcune le abbiamo anche seguite. Gianni, appunto, fa parte di una di queste che non è inserita nella slide, ma poi ci racconterà un pochino più da vicino la sua esperienza. E questo per dirvi come veramente è qualcosa di possibile. Quindi si tratta proprio di lavorare in un'ottica di miglioramento, ma vediamo da che cosa possiamo iniziare ad agire per innestare e innescare questa trasformazione. Questi sono proprio i punti su cui, quando noi andiamo nelle aziende per accompagnare le aziende in questo percorso di trasformazione, sono i punti da cui cominciamo. E quindi si lavora innanzitutto sulla gestione degli spazi, perché gli spazi sono un qualche cosa che coinvolge il lavoratore nella giornata quotidiana. E quindi il fatto di avere degli spazi in cui i lavoratori stanno bene è molto importante. Poi si agisce sui modelli organizzativi, quindi sui organigramma, per esempio. Su tutto si fa un enorme lavoro di brand management, cioè di capire il ruolo, come viene sentito ai lavoratori e come viene costruito insieme il ruolo dei lavoratori all'interno dell'azienda. Si agisce sui processi decisionali, quindi sui flussi che portano a prendere le decisioni e quindi anche su tutto quello che è la comunicazione, su come vengono comunicate le decisioni, su come vengono condivise e quindi proprio sul flusso delle informazioni. Dicevo prima, si agisce sui valori, perché nessun lavoro può essere fatto e può essere motivante se non c'è una condivisione di regole, obiettivi e valori. Si agisce anche necessariamente su una conciliazione di tempi e orari di lavoro e tutto questo poi porta a lavorare su quelle che sono appunto le performance, quindi si lavora sulla gestione delle performance, si fanno proprio, come dire, i lavori di coaching molto mirati per aiutare i lavoratori a gestire meglio le loro performance e a gestire le loro performance insieme al gruppo. E quindi chiaramente poi si fa anche un lavoro sul gruppo, sulle relazioni interpersonali. È un lavoro estremamente complesso, però diciamo che non bisogna spaventarsi, nel senso che veramente le organizzazioni positive possono essere viste come un cambiamento culturale possibile. Ma va detta anche una cosa, che la trasformazione in organizzazione positiva è veramente una porta che noi diciamo si apre solo da dentro. Quindi deve essere una decisione che viene innanzitutto assunta e fatta propria dai leader. E noi quando intendiamo leader, questo discorso delle organizzazioni positive lo facciamo anche negli altri sistemi organizzativi, nelle scuole, negli ospedali, negli enti pubblici, ogni persona che conduce, che dà l'impronta, che dà l'ottica, che ha la capacità visionaria di guardare avanti, per poter innescare questa trasformazione deve farla propria. E quindi dai leader da cui bisogna partire. E quindi appunto bisogna che i leader si facciano un po' assunzione di questa responsabilità, come appunto ha fatto Gianni che appunto è un leader ed è un leader della sua azienda e che adesso magari ci racconta la sua esperienza che ci permetterà anche di capire un pochino meglio nel momento che cosa si può fare. Quindi io chiedo a Gianni se fa cucù, se c'è, passo la parola a lui, spero sia tutto chiaro, e niente, grazie per avermi ascoltato. A te Gianni, grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Trevisonni e come è stato citato prima, sono amministratore delegato della Perceptron Italia. Io nasco come manager, quindi sono stato direttore in diverse aziende, amministratore delegato, vice president, tutti questi bei titoli roboanti che circondano le persone che si inseriscono in determinati ruoli aziendali. Sono passato dall'essere inserito in aziende metalmeccaniche all'inizio, dove ho avuto un certo numero di anni nel quale ho fatto esperienza. E poi successivamente in aziende multinazionali, proprio quelle lì quotate al Nasdaq, quelle lì da Cardiopalma. La mia radice è quella delle aziende metalmeccaniche, quindi le aziende che, come si dice in Piemonte, fanno i talk. Il primo impatto che ho avuto con queste aziende è stato quello di soffrire un pochettino quello che era la mancanza di positività. Io vi faccio solo l'esempio del fatto che il mio capo, quando sono entrato nella prima azienda, ha visto che ero piuttosto entusiasta, ero contento di lavorare, ero felice, insomma, cercavo di trasmettere questa positività. La prima cosa che mi ha fatto notare è che questa esagerata felicità avrebbe potuto compromettere alcuni equilibri aziendali, perché pensavano che, avrebbero potuto pensare che io guadagnavo troppo, o piuttosto che ero troppo felice perché ero in qualche maniera protetto, e così di questo genere. Quindi mi ha detto, guarda, continua a lavorare con entusiasmo, però cerca di mantenere il profilo un po' basso, cerca di essere un po', non voglio dire triste, ma non proprio così allegro, così contento. Questo primo impatto mi ha addolorato parecchio, tant'è che dopo qualche anno, dopo qualche anno sono uscito da quel contesto, sono entrato nelle aziende multinazionali americane che erano un po' più allegre, un po' più felici, e lavoravano con più smalto. L'aspetto buono è questo, l'aspetto un po' più difficile era il fatto che le persone erano motivate dal denaro, erano motivate dal fatto di guadagnare di più, di avere le provvigioni e via discorrendo. Ho notato però che c'erano alcune persone che avevano la passione, erano contente, non guadagnavano tantissimo, erano sulla media, però avevano quello che le distingueva, insomma era proprio la felicità di lavorare, la contentezza, la passione, il fatto di poter fare qualcosa per la propria azienda, e soprattutto essere riconosciute per il ruolo che avevano e per le persone che erano. Lì mi è venuta una sorta di shining, una sorta di accensione mentale che mi ha fatto capire che sostanzialmente le persone si sono motivate dai soldi, ma tante volte, anzi spesso, sono motivate dall'essere considerate. Da lì in avanti, dalla prima azienda che ho cambiato in avanti, ho avuto la fortuna e l'opportunità di diventare responsabile, quindi manager, poi seguendo la strada, direttore, eccetera, eccetera. Quello che ho cercato di applicare e quello di cui ho trovato riscontro è proprio il fatto di ascoltare le persone, cercare di renderle partecipi di quello che accadeva in azienda, ritagliare loro il ruolo che più era adeguato alle loro aspirazioni, cosa assolutamente non facile, perché come sapete tutti, quello che contano sono i numeri. Noi sappiamo benissimo che nelle nostre aziende quello che conta è fare il margine, quello che conta è fare il risultato, il fatturato e queste sono le cose che reggono le aziende, perché a meno che uno non sia contraddistinto con l'essere una onlus, tutte le altre devono fare i numeri. E ahimè, fare i numeri era qualche cosa che dovevo fare anch'io, però per fare i numeri non è necessario sempre, anzi, non è necessario mai imporre le cose, cercare di controllare o esagerare col controllo. Tante volte il controllo può venire meno o comunque si può abbassare nella misura in cui le persone sentono questa passione, sentono la voglia di lavorare, la voglia di mettersi in discussione e anche la voglia di aiutare l'azienda. Ho capito un po' questo e quello che ho variato, quello che ho cambiato nel mio modo di operare è stato proprio l'approccio alle persone. Ho cercato di, e penso di esserci riuscito in diversi contesti e spero di riuscirci anche ora dove sono, ma mi sembra di riuscirci. Quello che ho cercato di fare è di ritagliare intorno alla persona una zona di felicità, una zona di motivazione, che in realtà non vuol dire altro che consentire alle persone di fare quello che sono capaci e quello che hanno voglia di fare, perché noi sappiamo benissimo che il problema che noi tutti abbiamo è che ci sono delle persone che hanno molta esperienza che però tirano in remi in barca, quindi si fa una fatica enorme a tirare fuori informazioni e si fa una fatica enorme a farle lavorare con entusiasmo. Proprio partendo da quelle persone in realtà si può migliorare tutto l'ambiente, si può migliorare completamente tutta l'organizzazione aziendale. Quello che ho fatto e quello che mi ha portato dei grossi benefici proprio operativamente è quello di parlare con le persone. Quando entravo in una nuova azienda cercavo di capire, parlare con le persone e capire quali erano gli aspetti motivanti del loro lavoro e quali erano gli aspetti meno piacevoli, cercando non solo di sentire la storiella e chiudere il libro, ma cercando di proporre e di ritagliare dei ruoli alle persone in maniera tale che potessero fare quello che a loro piaceva. È chiaro che rispetto a questo approccio l'aspetto difficile, quindi la controindicazione è il fatto che se ci troviamo delle persone che sono degli indianchini e hanno voglia di fare i ricambisti diventa difficile. Bisogna cercare, almeno io ho cercato di capire nell'ambito di ogni dipartimento quello che potevano essere gli equilibri giusti perché poi al di là di tutto ripeto, deve essere il numero quello che comanda e per me è stato quello, però trovare delle persone chiave, persone che facessero qualche cosa perché a loro piaceva farlo e soprattutto sentirsi ascoltate da me e dai responsabili perché poi come si sa è dalla testa che parte un po' tutta l'organizzazione quindi se i vari manager in qualche maniera riescono ad assorbire questa positività si trasmette a tutti. Quindi operativamente ho cercato di capire chi sapeva fare che cosa e ho cercato di ritagliare questi ruoli alle persone. Questo sul lato azienda. Sul lato recruitment quello che ho cercato di fare è di far venire come secondo come secondo punto le competenze. Prima la motivazione la persona la capacità e l'essere smart l'essere un po' un po' creativi un po' un po' oltre oltre le righe. Quindi ho guardato più che altro l'aspetto persona e performance personali e emozionali. Dopo veniva la competenza. Questa cosa qui all'inizio chi mi ha visto fare questo mi ha preso per pazzo perché come sapete soprattutto nelle zone in cui ci troviamo noi in Piemonte gli imprenditori spesso sono un po' resti a fare dei cambiamenti e questo lo sappiamo. Quello che ho fatto è cercare di forzare un po' la mano e cercare di seguire la strada del guardare la persona e poi la competenza. Non che la competenza non serva ma prima individuare la persona giusta per il ruolo e quella motivata quella che ha voglia di fare e quella che ha voglia di cambiare perché comunque ho sempre pensato che le competenze entro certi limiti si potessero fare. Bene questa cosa qua questo approccio mi è servito molto perché sono riuscito a organizzare le aziende in maniera molto positiva e performante e devo dire che le performance quindi i KPI i KPI commerciali e amministrativi di produzione si sono sollevati parecchio i valori dei KPI sono andati in soddisfacimento direi totale. Quindi questa è un po' la mia esperienza l'esperienza che mi ha portato tra l'altro tre anni fa a prendere il certificato internazionale di coach di business coach tant'è vero che oltre a fare il mestiere che faccio faccio anche il business coach nelle aziende per aiutarle a raggiungere i propri risultati quindi tutto questo è il bagaglio che mi sono portato dietro che continua a portarmi dietro e che in qualche maniera mi fa avere del successo e penso di penso di aver preso insomma la strada giusta ecco questo è per chiudere un po' la mia esperienza se avete domande io sono qua se no passerei la parola direttamente a Barbara Costamagna che è nel secondo intervento Barbara se ci sei passerei a te sì ci sono stavo solo dando qualche qualche tempo supplementare bene io no dicevo se avete domande fatemele pure perché essendo io stato essendo nelle aziende mi rendo conto di quello che sono i problemi interni e quindi se volete sapere qualcosina di più io sono qua rispetto alle esperienze che ho avuto va bene Barbara per me puoi andare avanti tu se tu ti sono conto grazie io io proseguirei grazie grazie Gianni perché insomma ci ha dato tanti spunti di riflessione anche poi per proseguire sulla sulla mia parte io con voi allora andrò un pochino a condividere che cosa succede nelle in tante in tante realtà aziendali cosa succede nel diciamo nella concezione che le aziende hanno del business della della produttività e nella concezione che noi abbiamo del nostro funzionamento cerebrale io mi occupo molto di neuroscienze applicate al lavoro allora io un secondo solo che faccio anch'io la la condivisione dello schermo ok chiedo solo solo un feedback rispetto rispetto al fatto che vediate che vediate le slide benissimo allora un pochino come come stava anticipando come stava anche sottolineando prima Laura Conforti le aziende le aziende sono viventi sono come degli esseri viventi e quindi cosa succede che le aziende e le organizzazioni un pochino in genere cosa succede riflettono un pochino quello che noi siamo quello che pensiamo e quello che facciamo riflettono i nostri modelli i nostri modelli mentali sia come lavoratori e sia naturalmente come leader quindi riflettono anche i modelli mentali di chi gestisce e organizza i processi i processi aziendali quindi che cosa succede che tutti noi fin dalla nascita abbiamo i nostri modelli mentali con i quali osserviamo il mondo e con i quali agiamo cosa succede che poi nel momento in cui entriamo in un'organizzazione aziendale noi non li lasciamo sul comodino di casa questi modelli mentali li portiamo e li agiamo nelle aziende e quindi qui ne ho citati qualcuno ma potrebbe essere una lista lunghissima perché poi ognuno ha nel proprio taschino magari il proprio modello mentale che poi esercita nelle aziende e qui ne ho citati alcuni quindi ognuno di noi porta dentro magari un imprinting legato al prima al dovere poi al piacere la felicità dipende dal risultato vince il più forte devi dare il massimo obbedisce ai superiori e tutti questi modelli mentali naturalmente noi li agiamo sia come leader sia come responsabili e sia proprio come dipendenti noi li agiamo nel nostro quotidiano anche in famiglia noi li agiamo questi questi modelli mentali cosa succede che a volte i modelli mentali che noi abbiamo si trasformano si trasformano e prendono proprio una concretezza una concretezza non da poco che poi ha delle ricadute importanti nelle aziende e si trasformano in diversi aspetti quindi si possono trasformare in ambienti pieni di gossip in ambienti molto formali in ambienti dove c'è una competizione una competizione un pochino un pochino controproducente si può trasformare in asse da prestazione si possono trasformare in eccesso di controllo in senso di inadeguatezza in imbarazzo in demotivazione diciamo che i nostri modelli mentali possono poi avere delle ricadute che indubbiamente sono generatrici di malessere a nostra insaputa perché a volte i nostri modelli mentali come ho detto prima li agiamo senza poter più di tanto esserne consapevoli e quindi ci troviamo poi ad avere degli ambienti di lavoro delle organizzazioni che involontariamente generano stress generano malessere quindi la prima cosa che secondo me dobbiamo secondo noi dobbiamo un attimino fermarci e sulla quale riflettere approfonditamente è quale modello mentale sta guidando la nostra azienda sta guidando il nostro reparto sta guidando il mio team quale modello mentale quale poi modello mentale sta guidando le performance dei miei dipendenti perché è logico che alcuni modelli mentali poi guidano le performance in alcune modalità piuttosto che in altre e queste secondo noi sono proprio le prime due domande che ogni realtà aziendale prima di andare a strutturare magari interventi interventi di miglioramento quindi interventi in un'ottica di organizzazione positiva dovrebbe proprio soffermarsi a riflettere perché poi alcuni cambiamenti se poi non partono dai modelli mentali che noi agiamo non avvengono poi nel concreto quindi inutile che poi metta magari il caffè gratis come benefit alle macchinette pensando che magari fosse quello magari che poi sia quello scusate quello che poi porta un'azienda a diventare più positiva quando non sono andata a lavorare magari sul modello mentale che guida il mio team quindi che cosa succede che dobbiamo proprio anche chiederci quale patto esiste tra la mia azienda e i miei dipendenti tante aziende sono regolate da dei patti molto impliciti molto impliciti qui lavoriamo molto tutto nell'inconsapevolezza che le aziende portano quindi ottenere alcune aziende sono proprio regolate dal ottenere il più possibile e il più rapidamente possibile quindi senza che noi diciamo a volte queste cose chiediamo a volte queste cose ai nostri dipendenti ai nostri colleghi noi le esercitiamo naturalmente è logico che sono dei patti impliciti che portano inevitabilmente il team o piuttosto alcuni singoli lavoratori ad una forma di esaurimento e di mancanza di crescita quindi che cosa succede che ci troviamo a dover ricostruire proprio questi ultimi anni grazie veramente a tanti studi a tanti studi e tante ricerche che sono state effettuate in questo settore proprio a ricreare una nuova alleanza tra le organizzazioni e le persone quindi creare organizzazioni che si prendano cura consapevolmente scusate questa parola la troverete un pochino più volte ripetuta nelle mie slide proprio perché è importante esercitare proprio un cambiamento consapevole nelle persone e nelle organizzazioni quindi questa nuova alleanza che si può creare nelle organizzazioni deve prendersi consapevolmente cura del benessere delle persone e non e non fare sì che succeda inconsapevolmente e diciamo che arriviamo un pochino a riflettere su questo importante legame tra business e benessere sono due dimensioni che a livello aziendale sono sempre più correlate tra di loro sempre più correlato è anche il legame che si crea tra le performance che tutti a livello aziendale a livello lavorativo dobbiamo continuare ad inseguire e a perseguire e il legame tra le nostre performance e l'energia fisica e l'energia mentale che supporta poi le nostre performance la motivazione anche e quindi arriviamo proprio un pochino anche a chiederci da cosa dipendono le nostre performance e la nostra produttività qui ci viene grandemente scusate qui ci viene in aiuto Sean Hacker che è questo grande docente e ricercatore di Harvard che lui per anni ha studiato veramente presso importanti aziende e anche presso l'università diciamo ha studiato per tanto tempo la formula del successo e la formula proprio del potenziale umano e lui a seguito di tutti i risultati delle ricerche ha proprio suggerito di invertire la formula classica che noi da sempre abbiamo utilizzato per motivare le persone e per avere successo dalle persone e noi quale formula abbiamo sempre utilizzato quella del successo che porta la felicità quindi più è successo più lavori duramente più lavori e ti impegni più avrai felicità e quindi cosa succede? Che lui Hacker spiega proprio che questa formula che noi da sempre abbiamo utilizzato è completamente errata perché il cervello proprio lavora lavora completamente al contrario quindi solo quando riusciamo ad aumentare la positività e il benessere di una persona solo allora il cervello è in grado di produrre dopamina e questi aspetti li vedremo anche un pochino dopo che fanno parte delle neuroscienze il cervello è in grado di produrre dopamina e funzionare al meglio funzionare al meglio e quindi raggiungere indubbiamente il successo le performance che noi stiamo che noi stiamo ricercando e altre ricerche hanno permesso proprio di andare direttamente dai lavoratori a chiedere dalle persone a chiedere che cosa ti rende felice sul posto di lavoro e le ricerche hanno portato questi dati hanno portato come una buona percentuale di persone trovi nella collaborazione che riceve la sua felicità nel lavorare un'altra buona percentuale ritiene la fiducia nel gruppo un elemento indispensabile per essere felice sul posto di lavoro altre persone l'apprezzamento quindi che cosa succede che queste ricerche hanno proprio portato a vedere quanto l'essere umano sia lavorativo che non quindi l'essere umano in genere ma in modo particolare l'essere umano lavorativo viste le ore anche che noi tutti noi passiamo passiamo sul posto di lavoro quanto l'essere umano sia proprio cablato per la socialità e la fiducia e quindi quanto questi elementi cioè la socialità e la fiducia sono presenti nelle aziende quindi ci troviamo sempre di più a capire che le aziende perché funzionino bene perché funzionino perché portino a successo performance e business hanno bisogno proprio di costruire fin dall'inizio relazioni di fiducia e reciprocità perché poi sono proprio quegli elementi che portano le persone al benessere alla felicità alla positività e quindi conseguentemente al successo le ricavute sono importanti quando le realtà aziendali lavorano su questi ingredienti perché la persona un pochino anche Gianni Trevisoni l'ha un pochino sottolineato nel suo intervento quanto poi le persone sono proprio disponibili disponibili a lavorare nel loro pieno ruolo con entusiasmo con energia e con creatività e quindi arriviamo sempre di più a capire quanto noi esseri umani in qualsiasi contesto familiare lavorativo diamo il massimo solo quando ci sentiamo al massimo da tanti punti di vista naturalmente e qui chiamo un pochino in causa prima ve l'ho anticipato un pochino questi preziosi studi che negli ultimi vent'anni sono stati fatti e ci hanno veramente regalato le neuroscienze degli studi proprio per capire come funziona il nostro cervello e per capire proprio come rendere il nostro cervello un alleato piuttosto che un nemico perché in alcuni contesti in alcune situazioni il cervello non se non gestito al massimo non diventa un nostro alleato proprio anche nella vita quotidiana non solo in quella lavorativa e le neuroscienze che cosa hanno scoperto allora hanno scoperto che noi siamo da tantissimi anni programmati per reagire a qualsiasi cosa accada nel nostro ambiente in due modalità specifiche una modalità chiamata reactive dove il cervello inizia il cervello quindi tutto il corpo inizia a produrre determinati ormoni e l'altra modalità chiamata responsive dove il cervello e tutto il corpo produce altri tipi di neurotrasmettitori e altri ormoni quali sono queste due modalità allora la prima è la modalità reactive allora la modalità reactive è tra l'altro dentro di noi programmata da tantissimi anni come vi ho detto perché ha proprio avuto per millenni la funzione di proteggerci di proteggerci dai pericoli quindi cosa succede che si attiva quando il cervello una volta quando percepiva dei pericoli concreti delle minacce ambientali importanti adesso che i leoni e i predatori non ci sono più ma i predatori sono di altra natura cosa succede che la modalità reactive che è quella che produce cortisolo e adrenalina si attiva quando il cervello percepisce delle situazioni spiacevoli stressanti paurose quindi situazioni di vita anche ecco anche solo per citarvi un ambiente di lavoro pieno di gossip e di pettegolezzi il cervello entra in modalità reactive come se davanti a sé avesse un nemico e avesse una minaccia una minaccia importante dalla quale difendersi e quindi cosa succede che il cervello inizia ad entrare nella modalità reactive quindi quando percepisce un pericolo una tensione inizia ad entrare in chimica negativa quindi continua a produrre costantemente cortisolo e adrenalina cortisolo lo conosciamo un pochino tutti è chiamato proprio l'ormone dello stress quindi il cervello inizia a produrre a produrre proprio quel neurotrasmettitore utili proprio per la sopravvivenza ma che cosa succede poi concretamente concretamente nel nostro agire nella nostra vita lavorativa che sotto cortisolo e sotto adrenalina capita una situazione particolare che le funzioni cerebrali diventano quelle meno evolute il cervello non riesce ad accedere alle funzioni cerebrali più evolute accede a quelle sotto soglia quindi abbassa abbassa molto le potenzialità che potrebbe avere perché le zone più evolute si spengono in automatico perché il cervello deve reagire ad un pericolo e quindi che cosa succede che nella modalità reactive oltre ad abbassare enormemente le nostre performance le nostre potenzialità si va a creare una sorta di malessere generale che è poi quella forma veramente di stress da lavoro correlato dove noi veramente iniziamo poi ad accusare anche poi dei sintomi fisici dei sintomi fisici possono arrivare delle forme veramente anche di assenteismo dal lavoro dovuto a cifalevi cranio tachicardia chi più ne ha in meta l'altra modalità di reazione all'ambiente è la modalità responsive la modalità responsive chiamata anche chimica positiva è quella che entra in gioco quando il cervello individua delle situazioni di pace di tranquillità di benessere individua delle situazioni dove può sentire sentire una forma di benessere quindi delle situazioni piacevoli quindi per citare degli esempi possono essere delle realtà aziendali dove io sento un riconoscimento dove sento un senso di appartenenza dove sento la soddisfazione lavorativa dove sento la motivazione proprio come diceva come diceva il collega Gianni Trivisonni quanto la motivazione nel lavorare la passione proprio nel lavorare metta in moto proprio tutta una chimica positiva che poi fa a livello proprio cerebrale aumentare le funzioni cerebrali al massimo perché va proprio ad attivare ad attivare proprio le aree le aree cerebrali deputate proprio alle alte alle alte performance quindi noi in questa modalità quindi modalità chimica positiva abbiamo la possibilità proprio di lavorare anche sopra delle nostre possibilità abbiamo la possibilità di aumentare la nostra resilienza la nostra antifragilità come la chiamiamo spesso e la chimica positiva naturalmente si produce quando il cervello mette in moto alcuni neurotrasmettitori specifici che per condivisione sono proprio l'ossitocina la dopamina la serotonina le endorfine ve li cito proprio perché immagino che in questi anni tanti di voi le abbiano le abbiano incontrati anche anche magari in ambito in ambito sportivo quando si dice che magari fare sport oppure fare delle camminate nella natura attivano attivano delle endorfine quindi attivano proprio la chimica positiva che ci permette proprio di alzare i livelli di performance e quindi che cosa succede in ambienti di lavoro dove io attivo attivo proprio i neurotrasmettitori di chimica positiva succedono tante belle cose quindi sono ambienti di lavoro che puntano in maniera molto molto semplice al raggiungimento degli obiettivi alla risoluzione dei problemi aumenta come dicevo prima la resilienza sono ambienti di lavoro dove la creatività è libera e la creatività è libera perché la chimica negativa la batte la creatività e invece proprio il cervello sotto chimica positiva è un veramente un pullulare di idee è un concentrato proprio di idee e di creatività e quindi anche di successo quindi cosa succede che chimica positiva e benessere iniziano a diventare proprio non una moda ma iniziano proprio a diventare una strategia una strategia aziendale e una strategia organizzativa per quelle realtà e per fortuna adesso iniziano proprio a essere tante per quelle realtà che vogliono aumentare i propri livelli di business e i livelli di produttività e vogliono farlo non attraverso veramente metodi metodi un pochino ancestrali ma puntano proprio ai metodi più attuali quindi che sono proprio quelli legati alla chimica positiva e benessere e cosa succede che alcune strategie aziendali inconsapevolmente inconsapevolmente qui cito di nuovo questa parola perché come diceva prima Laura non tutte le aziende sono negative o positive assolutamente tutte le aziende mettono in atto delle strategie aziendali che inconsapevolmente poi portano portano un ambiente di lavoro che lavora a chimica negativa senza più di tanto saperlo e quindi che cosa noi poi intendiamo con organizzazioni positive intendiamo né più né meno far funzionare al meglio l'uomo lavorativo far funzionare al meglio il nostro cervello far funzionare al meglio veramente le nostre performance le nostre attitudini e le nostre competenze le organizzazioni positive quindi rivedono un pochino quelli che sono i processi i processi di vita aziendale per processi di vita aziendale è logico che ci sono anche quelli legati alla selezione al recruitment come sottolineava prima Gianni legate proprio anche ai premi che un'azienda mette in atto e per organizzazioni positive intendiamo anche tutti quei processi organizzativi che interagiscono con i comportamenti che noi portiamo nelle nostre aziende come leader e come dipendenti e interagiscono anche con la cultura della mia azienda per produrre benessere e chimica positiva quindi le strategie di benessere sempre più si legano alle strategie di business sempre più aziende nel momento in cui vogliono apportare dei miglioramenti e dei cambiamenti alle proprie strategie di business integrano sempre sempre anche delle strategie di benessere come ho detto prima è logico che tutto ciò passa anche proprio dal andare un pochino a rivedere come sono regolate le nostre assunzioni i nostri premi e la nostra crescita aziendale perché anche lì sono regolate come dicevo un pochino all'inizio magari da dei modelli mentali inconsapevoli che poi non fanno funzionare al meglio l'azienda non fanno funzionare al meglio le performance non fanno funzionare al meglio la chimica la chimica positiva e quindi il benessere aziendale naturalmente per portare avanti tutti questi ragionamenti è logico che di base ci vuole un grande livello di conoscenza e di coerenza tra diversi aspetti che caratterizzano l'organizzazione allora prima di tutto ci vuole una buona e adeguata conoscenza di quello che crea benessere nella persona e qui ci sono anche tutti gli aspetti ok scusate mi sono sentivo un'interferenza e quindi qui portiamo anche in causa tutti gli aspetti soggettivi che creano benessere nella mia azienda quindi questo cosa presuppone presuppone che io debba anche conoscere conoscere le singole persone non posso non posso introdurre tante volte degli elementi di benessere asettici che non passano attraverso la conoscenza dei miei dipendenti attraverso la conoscenza delle diciamo degli aspetti caratteriali e personali prevede un buono livello di conoscenza dei modelli e della cultura organizzativa come abbiamo visto all'inizio prevede una buona conoscenza delle strategie e delle pratiche organizzative che io metto in campo per produrre per crescere per promuovere per come ho detto prima per selezionare e per reclutare i nuovi ingressi prevede una buona conoscenza una buona coerenza tra anche dei processi organizzativi e dello stile di leadership tutti questi aspetti quando un'organizzazione si trasforma e decide decide proprio di trasformarsi di lavorare in un'ottica di organizzazione positiva noi dobbiamo partire dal presupposto che tutti questi aspetti devono tra di loro essere diciamo correlati correlati e concatenati e coerenti e coerenti tra tra di loro e quando parliamo e qui qui mi avvio mi avvio a concludere quando parliamo di elementi di benessere a livello aziendale ci sono ci sono tanti gli aspetti gli aspetti e gli elementi che possono portare del benessere alle aziende anche se come abbiamo detto prima il benessere e poi non è mai qualcosa di assettico ma va calato calato nella singola nella singola realtà lavorativa però se volessimo è logico fare qualche riflessione sugli elementi di benessere il senso di appartenenza il senso di appartenenza è un elemento fondamentale che passa quasi inosservato ma nel momento in cui un lavoratore si trova a lavorare in un team o a lavorare per il raggiungimento di un obiettivo di un progetto nel momento in cui cala e non sente il senso di appartenenza la prima reazione è un drastico calo della motivazione la vicinanza emotiva quindi il sentire il sentire che il luogo di lavoro non è naturalmente un luogo dove io posso portare tutta la mia vita emotiva però il sapere di avere un luogo di lavoro in cui anche solo sperimento e sento una vicinanza emotiva ai miei colleghi è un elemento proprio da chimica positiva perché sento l'ambiente di lavoro meno minaccioso e quindi sono disponibili a dare il massimo la fiducia è un elemento anche questo che passa inosservato ma che è fondamentale nelle aziende solo che mai io penso noi nel momento in cui ci troviamo anche a o a dirigere o a o a condurre dei gruppi di lavoro non ci chiediamo mai qual è il livello di fiducia nel mio team peccato però che poi nel momento in cui un team lavora senza fiducia diventa proprio la motivazione del team viene subito a mancare la soddisfazione il rispetto il supporto le buone relazioni ci sono proprio tante aziende che investono non appena sentono che il team non ha fiducia o non ha all'interno delle buone relazioni puntano su questo come primi obiettivi di miglioramento e di diciamo di risultato la positività di un team il il senso di riconoscimento ognuno nel proprio ruolo quindi ognuno nelle proprie competenze ognuno nella propria diversità ma tutti noi abbiamo un alto bisogno di riconoscimento dai superiori dal leader dai responsabili dai propri colleghi e anche proprio un bisogno di essere il più possibili valorizzati come proprio come diceva il collega Gianni proprio già anche in fase di selezione quindi partecipare ad una selezione aziendale dove io sento che già in fase di selezione viene valorizzata al massimo la mia persona non solo a livello di hard skills ma veramente anche a livello di soft skills quindi cosa io porto di me nell'azienda quello diciamo è già un un buon un buon ingresso per 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 la per la persona e quindi spero di non essermi dilungata dilungata troppo perché l'argomento l'argomento è molto ampio l'argomento è molto ricco e poi è logico che più delle volte si cala nelle singole realtà lavorative io vi ringrazio ritorno tra voi vi ringrazio molto per l'attenzione a nome mio e a nome di tutto il team del quale faccio parte quindi di eclettica grazie ai relatori che sono intervenuti un grazie anche perché siamo assolutamente nei tempi che ci eravamo dati per il convegno e prima di passare la parola al per l'illustrazione scusate Barbara ti chiedo la cortesia di togliere la condivisione dovresti proprio schiacciare interrompi condivisione scusate perfetto grazie grazie prima di passare alla testimonianza aziendale se ci sono da parte dei partecipanti delle domande che vogliono proporre ai relatori o anche delle riflessioni delle suggestioni che gli interventi hanno portato avete sicuramente alcuni minuti a disposizione quindi prego ovviamente per intervenire diciamo non devo abilitarvi io ma autonomamente ciascuno può abilitare il proprio microfono per proporre il suo intervento pellegrini pioirino spa buonasera a tutti buonasera prego solo un intervento molto breve sul concetto sui concetti che sono stati espressi molto interessanti quello che diciamo esprimo con questo intervento è la mia perplessità sui tempi mi sembra tutto molto che richieda diciamo delle tempistiche estremamente vaste e diciamo un insieme di attività molto complesse anche se diciamo trasversali volevo un commento su questo aspetto qua perché un conto è esprimere il concetto un conto è trasportarlo sul campo diciamo mi interessava capire se è possibile brevemente diciamo le esperienze di chi ne sa qualcosa più di me che cosa significa trasferire queste modalità sull'azienda ecco certo grazie mille Barbara vado io vai tu vai pure Laura allora grazie perché in effetti riportare il discorso poi sulla concretezza è sempre molto importante allora c'è da dire due cose la prima è che questo tipo di percorsi sono sempre sempre costruiti su misura nel senso che infatti voi avete visto che nel discorso che abbiamo fatto io e Barbara ma anche che ha fatto già non abbiamo fatto delle ricette piuttosto che dei protocolli ecco di lavoro molto già fissi e determinati a priori quando si fa questo tipo di percorso è necessario appunto fare prima una fotografia di quella che è la realtà e poi si costruisce insieme il percorso è chiaro che i tempi non sono dei tempi brevi per darmi un ordine di grandezza mi riferisco a una delle esperienze che noi abbiamo seguito più da vicino che è un'azienda di Pordenone che si chiama CGN servizi è una delle più grandi aziende che si occupano di servizi fiscali diciamo che il loro percorso di chiamiamolo traghettamento è durato un paio di anni però loro hanno iniziato a vedere i primi effetti diciamo di questa transizione dopo i primi 4-5 mesi perché cosa succede? quando si innescano una serie di pratiche di processi poi è un po' come se tutto si accelerasse come se si verificasse un fenomeno un po' di effetto cascata quindi poi in realtà il lavoro è come se si autoalimentasse e la cosa interessante tra l'altro è che quello che succede è che poi diciamo quello che è un percorso che potrebbe venire visto come un tempo lungo anche in termini di accompagnamento da chi come noi fa consulenza in questo campo in realtà poi invece genera un discorso di autonomia cioè capito un pochino l'ottica in cui si deve andare qual è la direzione in cui si deve andare si diventa indipendenti quindi poi molto del lavoro in realtà viene fatto internamente proprio grazie alle competenze che i leader hanno acquisito e alle capacità che hanno condiviso poi con i loro collaboratori quindi è vero che i tempi sono lunghi però è anche vero quello che dicevo prima cioè che nel giro di 5-6 mesi si innesca un pochino questo effetto a cascata che genera anche la capacità di lavorare in autonomia non so se ho risposto alla sua domanda o se Barbara magari vuole aggiungere qualcosa per me è sufficiente la ringrazio grazie a lei per averci dato questo spunto qualcun altro che vuole intervenire non sento non vedo ecco richieste di intervento questo è sempre un po' il problema dei webinar a distanza dove non ci l'interazione magari non è sempre non è sempre semplice allora direi che se non ci sono altri interventi io passerei la parola a Marco Cappellari HR specialist di OSI Automation System chiedendo un po' al dottor Cappellari di raccontare la loro esperienza di quali sono state le iniziative che l'azienda in tema di welfare ha attivato e del percorso che in qualche modo è stato fatto rispetto all'introduzione del welfare in azienda dandoci per quanto possibile ecco qualche riscontro su quelli che sono stati magari i risultati che l'azienda ha ottenuto rappresentando anche alcuni aspetti che alcune difficoltà o alcune criticità che l'azienda si è trovata ad affrontare e come eventualmente sono state risolte ecco prima dell'illustrazione chiederai magari ecco al dottor Cappellari di fare una breve presentazione dell'azienda grazie buonasera grazie per l'invito sono assolutamente onorato di rappresentare la mia azienda in questo contesto allora la nostra è una realtà che oramai è attiva da circa una trentina d'anni perché è nata ufficialmente nel 1991 oggi abbiamo raggiunto una dimensione di quasi 200 dipendenti diretti abbiamo tre filiali commerciali in giro per il mondo negli ultimi anni tendenzialmente molto del nostro business che è orientato all'automazione industriale e al mondo dei semiconduttori è stato di fuori dei confini nazionali e questo ci ha permesso comunque di diventare sotto un certo punto di vista insomma molto più internazionali rispetto al passato è chiaro che la nostra storia comincia ad essere abbastanza lunga e articolata e sicuramente già anche solo 5 anni fa quando io sono entrato in azienda e ho iniziato diciamo a ricoprire il ruolo di addetto alle risorse umane la struttura era sicuramente differente e anche il contesto che era attorno a noi lo era altrettanto quello che le posso dire è che sicuramente quando abbiamo immaginato il nostro primo regolamento di welfare siamo partiti veramente da da poco avevamo pochissimo in mano avevamo sicuramente una normativa che in qualche modo forse soprattutto nelle primissime battute anziché tracciare la via poteva anzi invece generare confusione per cui io ricordo sicuramente con affetto che una delle prime chiacchierate che ho fatto con la direzione per iniziare ad articolare quello che sarebbe poi diventato il prototipo del nostro regolamento è nato proprio da un'occasione in cui tendenzialmente mi venne spiegato quello che era proprio lo spirito dell'azienda lo spirito che l'aveva animata sin dall'inizio faccio una piccola regressione questo perché chi non è del territorio probabilmente non ci conosce l'azienda nel 2016 arrivava da un evento molto traumatico un avuto molto importante perché nell'ottobre del 2015 era scomparso prematuramente il suo fondatore imprenditore Carlo Ferrero la famiglia Ferrero con una scelta coraggiosa decise poi alla fine di quell'anno praticamente di continuare e di investire e fece una sorta di patto con tutti i dipendenti per poter andare avanti perché c'era bisogno veramente dell'aiuto di tutti per poter diciamo superare quel momento così drammatico in effetti uno dei pilastri dei fondamenti di Giosai è proprio legato diciamo alla definizione di persona diciamo che amiamo dire che la nostra forza sono le persone le persone sono viste non semplicemente come dipendenti ma quando entrammo in azienda siamo sì dipendenti ma siamo per nostra volta comunque mariti di famiglia figli e quant'altro in questo senso mi sento di dire che un'analisi del welfare che abbiamo fatto è stata un'analisi che è partita sicuramente in sordina e si è diciamo si è fondata inizialmente su questioni di sensibilità e di educazione quindi uno dei primissimi obiettivi era assolutamente quello di garantire ai dipendenti delle forme di protezione ulteriori che potevano essere in qualche modo adottate e per se stessi e soprattutto anche per le proprie famiglie uno dei primissimi passi quando ancora non immaginavamo poi di adottare una piattaforma come per esempio abbiamo oggi e un sistema di welfare solturato on top è stato quello di iscrivere tutti i dipendenti a Meta Salute a inizio 2017 oggi questo è dato per assodato per quello che prevede il nostro contratto collettivo nazionale nel 2017 l'iscrizione era ancora facoltativa posso dire che l'ho seguito in prima persona tra l'altro i tempi non si caricavano ancora le anagrafiche sul sito con i nuovi dipendenti quindi l'abbiamo fatta a manina con un modulo di 4-5 pagine per ogni dipendente quindi questo è stato sicuramente uno dei primissimi passi e su questo filone siamo andati avanti anche negli anni successivi perché una volta che Meta Salute nel 2018 è diventato diciamo uno dei cavalli di battaglia del nuovo metalmeccanico industria l'azienda ha deciso comunque di garantire un'interiore copertura quindi siamo passati praticamente dal piano base al riconoscimento di integrativo B per tutti quanti i dipendenti nello stesso tempo nel corso degli anni sono state attivate altre polizze per esempio nel 2019 è stata attivata una polizza legata agli infortuni non agli infortuni sul lavoro ma quelli che possono essere gli infortuni nella vita privata e tra l'altro questa polizza è una valenza molto interessante perché può essere per esempio utilizzata anche in fase di richiesta parlo per esempio di un mutuo questo è tornato molto utile ai nostri dipendenti sicuramente queste sono tutte facilitazioni se vogliamo definire in questa maniera che in qualche modo possono davvero aiutare l'azienda a creare un rapporto leale un rapporto limpido ma soprattutto molto solido e robusto con i propri dipendenti attualmente l'ultima polizza che abbiamo attivato e che abbiamo dovuto rinnovare è quella della copertura appunto contro il covid speravamo per il 2021 di accantonarla di pensare a qualcos'altro però i tempi sono questi per cui insomma abbiamo provveduto in tal senso un altro filone sicuramente interessante poi appunto è stato quello del welfare on top faccio un piccolo presupposto non abbiamo mai avuto non abbiamo il premio di produzione per cui quando abbiamo iniziato a studiare il welfare ho iniziato il nostro consulente del lavoro e alla direzione non abbiamo mai tra virgolette preso in considerazione la questione di avere comunque un premio di produzione commutabile in welfare per cui quando abbiamo immaginato di avere un piano articolato l'abbiamo immediatamente immaginato su quello che è il welfare on top questo in qualche modo ci ha costretti a crescere ulteriormente parlo a livello di mentalità perché abbiamo dovuto studiare sicuramente che cosa voleva dire integrare la retribuzione arrivare ad un concetto di retribuzione allargata integrata anche da altre cose perché tendenzialmente il lavoratore dipendente è assolutamente abituato e difficilmente esce da questo schema ad ottenere una corrisponsione di retribuzione per quello che fa per il proprio lavoro che presta quindi ci siamo resi conto che potevamo da un lato dare a parte la retribuzione quindi come binario parallelo a quello che è il piano di carriera di sviluppo di un dipendente andare poi parallelamente a garantirgli tutta una serie di benefici di copertura basando poi il nostro piano su una serie di requisiti non tanto più professionali o almeno solamente in parte perché per esempio da quando abbiamo praticamente creato le prime due classi omogenee di beneficiari di welfare oggi che ne abbiamo ben 14 non abbiamo solamente inserito requisiti quali per esempio il ruolo o la tipologia di inquadramento ma abbiamo anche preso in considerazione l'età anagrafica e i relativi bisogni che ci possono essere secondo poi appunto anche dell'appartenenza generazionale e anche poi quella dell'anzianità aziendale ci siamo resi conto di una cosa che grazie al welfare in qualche modo al welfare on top con delle categorie omogenee ben mirate abbiamo avuto la possibilità di andare in qualche modo a dare dei riconoscimenti alle persone con un'anzianità aziendale importante ma che per tutta una serie di motivi non hanno avuto l'opportunità di crescere a livello di ruolo in azienda vi raccontavo prima noi oggi siamo circa 200 chi è entrato 20 anni fa ha conosciuto un'aziendina che aveva 15-20 dipendenti per cui tendenzialmente chi ha scelto negli anni di rimanere appunto in azienda e attraversato dei periodi anche difficili non è secondo me così folle dire che in qualche modo negli anni ha fatto un atto di fede d'amore nei confronti dell'azienda perché è sempre rimasto è sempre rimasto a bordo anche se magari ha avuto altre opportunità e quant'altro soprattutto man mano che l'azienda comunque ha iniziato a crescere e a farsi conoscere per cui in questo senso abbiamo trovato appunto anche un modo per in qualche modo valorizzare queste persone anche perché obiettivamente non è possibile creare figure di responsabilità per tutti sarebbe sarebbe assolutamente folle come questione e quindi qui arriviamo a quello che è il nostro welfare on top abbiamo iniziato con un progetto pilota nel 2017 con un regolamento che è stato scritto partendo da una paginetta e da quella famosa chiacchierata di cui vi raccontavo prima e nell'arco di due anni siamo arrivati poi ad adottare la prima piattaforma e allargare il welfare on top a circa 30 persone 30 dipendenti nel frattempo avevamo appunto creato le prime otto classi omogene successivamente abbiamo ulteriormente allargato il contesto e fatto una scelta importante ovvero un cambio di pattaforma dopo che non hanno perché una cosa molto importante di cui ci siamo resi conto è che il welfare non è sufficiente applicarlo il welfare comunque deve essere in qualche modo deve rispondere a quelli che sono effettivamente i bisogni le necessità dell'azienda a quelli che sono gli obiettivi per cui ci siamo trovati in una condizione dove la piattaforma che avevamo adottato era sicuramente molto forte rispetto a tutta una serie di prodotti di servizi e quant'altro ma non rispondeva alle esigenze che tendenzialmente accomunavano poi quelli che erano i beneficiari che avevamo appunto inserito nel regolamento per cui abbiamo praticamente fatto questa prova e dopo un anno abbiamo trovato l'attuale fornitore che in qualche modo ci ha secondati e ci ha dato un grande valore aggiunto soprattutto sulla comunicazione perché un'altra criticità che abbiamo incontrato in questi anni è stata proprio quella della comunicazione il grosso problema che accumula tante novità è che se in qualche modo non vengono accompagnate con la giusta comunicazione con i giusti messaggi c'è il rischio che le persone i beneficiari non comprendano pieno il valore di quello che stanno ricevendo il classico esempio è riferito per esempio ai dipendenti quelli magari più maturi che già per un qualche motivo non sono propriamente contenti di utilizzare il computer e quant'altro una volta che si sono ritrovati con del web forum top ad affluire in piattaforma e hanno incontrato le prime criticità la classica reazione è stata non lo so usare non è possibile utilizzarlo non so come spendere i soldi che mi avete dato non si può ottenere retribuzione in busta paga ecco questo è un momento è un momento un po' drammatico per una differenza di risorse umane però è stato sicuramente un è stato sicuramente un momento chiave perché questo ci ha fatto veramente capire tante cose e vi dirò di più grazie poi a quello che abbiamo imparato che cosa è successo quest'anno quest'anno obiettivamente devo dire che i più assidi frequentatori della piattaforma welfare tendenzialmente hanno speso un po' di meno rispetto agli anni precedenti proprio perché non hanno magari potuto acquistare le vacanze ecco il signore di cui vi parlavo prima a gennaio aveva già praticamente esaurito il plafone perché nel frattempo comunque aveva capito era riuscito a intercettare quelli che potevano essere diciamo dei servizi che in qualche modo rientravano nessuna necessità ha comunque tre figli che sono in età di scuole alte per cui anzi ha persino detto se non poteva fatto la battuta ridendo se non poteva averne ancora questo è un pochino quanto e per chiudere diciamo un po' questo questo cartello che ho fatto vi posso dire che in questo momento per il 2021 anche perché di solito in questo periodo dell'anno tendiamo poi a prendere in mano i regolamenti e rivederli per quello che sarà l'anno successivo stiamo facendo un'importante valutazione con il nostro fornitore il nostro fornitore in questo senso ha dimostrato credo una grande sensibilità rispetto ai tempi che corrono e per una questione pratica proprio per rendere più facile la fruibilità e la spendibilità dei plafondi welfare e anche proprio per una questione legata alla crisi sociale che stiamo vivendo in questo momento ha attivato praticamente una piattaforma 2.0 con un upgrade che prevede tutta una serie di servizi alla persona per cui praticamente hanno convenzionato cooperative sociali hanno convenzionato figure che forniscono supporto psicologico che fanno coaching aziende che fanno molta formazione di learning e quindi hanno davvero pensato alle famiglie non altro i ragazzi che comunque stanno perdendo stanno perdendo colpi purtroppo andando a scuola sin ghiuzzo e dall'altro invece per i più fragili che in questo momento qui qualora abbiano bisogno di qualcosa sono assolutamente più difficoltà di tutti gli altri grazie della sua esposizione dell'esperienza e anche appunto avendo evidenziato un po' le tappe che probabilmente sono quelle diciamo opportune per chi decide di introdurre un piano di welfare e anche delle osservazioni e delle difficoltà che in qualche modo vi hanno fatto ripensare ecco al fornitore piuttosto che alle modalità per proporre il welfare andando incontro ecco come diceva lei a quegli aspetti più critici di chi magari non è così tecnologicamente ben disposto e quindi ha bisogno di essere seguito per poi utilizzare la piattaforma ma ecco la testimonianza che mi ha dato mi fa dire che una volta che le persone comprendono che cos'è il welfare e il valore del welfare poi ecco nasce spontanea la domanda ma forse se ce ne fosse stato di più sarebbe stato meglio però questo è chiaro che credo sia un buon riscontro da parte delle persone ecco volevo ancora chiederle una cosa siamo un po' ai limiti col tempo ma è una richiesta che le faccio voi sicuramente avete un riconoscimento verso i propri vostri collaboratori e i vostri dipendenti ecco rispetto al territorio dove voi operate come vi rapportate se può magari raccontarci raccontarci qualcosa in questo senso sì molto volentieri il territorio è importantissimo perché come un posai ha scelto di rimanere in canavese e di portare comunque avanti la sua storia qui e soprattutto di dare delle certezze delle garanzie alle famiglie che chiaramente abitano nel luogo un'altra cosa molto molto importante che è stata fatta comunque negli ultimi anni e in particolare dopo la scomparsa del signor Carlo Ferrero da un lato abbiamo sicuramente un rapporto molto intenso con quelli che sono gli enti le associazioni territoriali parlo a livello di azienda e in particolare anche con gli istituti scolastici per cui tolto un po' le difficoltà di questo periodo qui tendenzialmente abbiamo ogni occasione buona abbiamo cercato sempre di comunque di sostenere per esempio le scuole del territorio quando nei loro progetti nelle loro gare internazionali penso per esempio all'istituto tecnico Olivetti di Ivrea abbiamo a volte abbiamo diciamo insieme a loro fatto dei come dei beta test penso per esempio l'apprendistato di primo livello avviato nel 2017 è stato il primissimo anno una sperimentazione a livello regionale e poi calandoci invece anche al di fuori diciamo delle mura della cartiera di Parella dove siamo l'associazione Carlo Ferrero è nata praticamente per non solo per commemorare la memoria del signor Carlo ma anche per portare avanti quella che era la sua sensibilità e quello che era il suo spirito altruistico per cui questa associazione che è nata praticamente col patrocinio della famiglia Ferrero chiaramente di tutto sai di una serie di professionisti storici a cui siamo molto legati anche di associazioni territoriali è nata con l'intento di qualche modo fare del bene sul territorio di aiutare magari chi è in difficoltà per fare un esempio molto rapido di quello che è successo in questi ultimi anni beh per esempio sono state erogate una nel 2018 e una nel 2019 due borse di studio a due valenti studenti del canadese queste borse di studio sono state erogate per permettere a loro di poter continuare gli studi perché hanno terminato le superiori avevano delle medie molto alte ma purtroppo avevano anche delle situazioni familiari molto critiche per cui questi ragazzi se non avessero ricevuto in qualche modo questo incentivo avrebbero sicuramente messo in difficoltà le loro famiglie ma non l'avrebbero mai fatto per cui avrebbero comunque rinunciato all'opportunità di andare avanti di poter insomma in qualche modo progredire ulteriormente molto recente e questo devo dire che è stato veramente un enorme successo perché tra l'altro tra l'altro questo centro è stato praticamente avviato in piena era covid e spazio blu circa un anno e mezzo fa siamo praticamente entrati nel volano di un progetto che si chiama progetto Atlantide è un progetto di cui siamo appunto diventati insomma siamo diventati partner progetto che è stato in qualche modo avviato dalla nostra asile competente territoriale da alcune cooperative questo progetto segue ragazzi che sono affetti da autismo e l'obiettivo è praticamente quello di inserire nel mondo del lavoro facendo praticamente prima una parte in aula di formazione e poi successivamente una parte in the job in azienda noi abbiamo partecipato lo scorso turno abbiamo ospitato dei ragazzi tra l'altro c'è stato tutto ordino di loro e a parte comunque trasmettere di quello che è insomma a livello emozionale è sicuramente molto coinvolgente è stata un'esperienza davvero bella e soprattutto educativa non lo dico per come dire per lustrarmi ma ci credo davvero e si è arrivati poi praticamente da questo di un'idea che poi è stata condivisa dalla nostra presidente Mirella Ferrero all'inaugurazione di Spazio Blu con Centro Diurno quindi parlando e condividendo insomma quelle che erano i fabbisogni ascoltando soprattutto le famiglie verso che tendenzialmente su Ivrea non esisteva un punto di incontro un punto di raccordo per alleggerire un po' le famiglie soprattutto durante il giorno quindi di Spazio Blu insieme a te la cooperativa appunto Andi Rivieni che gestisce diciamo la parte educativa e ha preso forma a partire appunto da aprile 2020 quindi nonostante il lockdown e nonostante tutto questo è un po' quello che è successo appunto negli ultimi anni grazie credo che questo sia un altro elemento come diceva credo Claudio Ferreo all'inizio dove appunto dopo dal welfare aziendale bisogna poi il passaggio successivo debba essere anche un po' un welfare di natura territoriale tenendo conto sicuramente dell'ormai difficoltà ecco dello Stato di garantire certi servizi e soprattutto della difficoltà che magari il lavoratore e cittadino di cui ha necessità siamo direi verso la conclusione non voglio togliere spazio se ci sono delle domande quindi qualche minuto lo lascio a disposizione dei partecipanti se vogliono proporre domande al dottor Cappellari o fare qualche riflessione o portare qualche testimonianza prego ciao ciao Roberto buonasera a tutti ciao Daniele mi ricollego a quanto ho detto da Marco Cappellari perché anche per il 2021 il progetto Atlantide andrà avanti e quindi stiamo già cercando aziende che possano ospitare i ragazzi quindi è un appello alle associate sia cannabidane che i dei raccogliamo raccogliamo ecco non lo so se non ci sono interventi a questo punto ti lascerei la parola e lascerei a te appunto le conclusioni di il nostro webinar io da parte mia ringrazio i partecipanti e i redatori grazie Roberto intanto ringrazio i vice presidenti Claudio Ferrero e Giancarlo Cristiano per il loro intervento naturalmente i redatori del webinar di stasera la dottoressa Laura Conforti e Baratara Costa Magna ma naturalmente anche Giovanni Treviso e Marco Cappellari per le loro testimonianze che dire mi tocca l'altro compito di tirare un po' le somme e chiudere i lavori dopo così tanto tempo personalmente penso sia stata un'esperienza importante di collaborazione tra associazioni tra soggetti magari anche diversi ma siamo riusciti a creare a formare una bella squadra in un anno e mezzo di lavoro siamo riusciti a attivare un sito web a creare delle guide per i datori di lavoro degli opuscoli per i laboratori sportelli informativi sono stati molto apprezzati anche delle nostre associate di sportelli informativi che tutti i giovedì si teneva in associazione i video i video promozionali i webinar abbiamo fatto tantissimi webinar seguiti da tantissime aziende cioè un gran bel lavoro nel video penso quindi che il progetto abbia funzionato e soprattutto abbia raggiunto gli obiettivi che il bando regionale aveva posto da un lato diffondere da un punto di vista tecnico e poi magari abbiamo contribuito più io e te a spiegare il webinar da un punto di vista tecnico ma naturalmente il secondo fine del batto era quello di diffondere la cultura del webinar e mi sembra che ci siamo riusciti tra le nostre associate mi fa anche piacere naturalmente che la collaborazione continui perché alcune aziende del territorio canali parteciperanno al secondo bando webinar con le aziende viellesi e naturalmente spero che possano crearsi le condizioni per momenti di lavoro in comune che dire io ringrazierei tutti in modo speciale Roberto e Vanna per l'Unione Enrico Pesce per il filo da tessere la Vittoria Barton che con cui in confiamento è stata l'artefice di svariati webinar naturalmente non voglio dimenticare Valentina Perazzi e Massimo Robben che ci hanno accompagnato durante tutto questo percorso ultimi non ultimi tutti i colleghi Davide Alessandra Paola Gianfranco per i video per diciamo il supporto che ci hanno dato da un punto di vista organizzativo spero di non aver dimenticato nessuno grazie ovviamente mi unisco anch'io ai tuoi ringraziamenti a tutti tanto i partecipanti al webinar di oggi a tutti i componenti della squadra che hanno lavorato con noi non li cito per non dimenticare qualcuno quindi noi nonostante finisca ecco il progetto Welfare Cafè è chiaro che immagino anche voi come noi sia sul welfare che sulla contrattazione di secondo livello siamo qui siamo a disposizione delle aziende quindi finisce il progetto ma non finisce l'attività delle associazioni sul welfare purtroppo siamo in in workshop siamo a distanza in webinar altrimenti in queste occasioni normalmente si fa il brindisi finale non possiamo farlo facciamo un brindisi virtuale ringrazio tutti per la partecipazione e ovviamente vi auguro un buon fine settimana grazie grazie a tutti grazie a tutti